in 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 the main square it's it's nice it's funny it's it's nice yes Alex Miraggio non l'ho mai sentito sto nome Alex chi è Alex Miraggio no si scherza io ho capito ragazzi però catch me yes do you like pizza Jerry I eat pizza every week once one day a week no I never do magic tricks I do only I do only this what oh 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 COCONAN, prima leggerò, sono molto esattato da voi grazie, 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 tu dopo mi dici quant'è era una vecchia battuta sei mai stato in Svezia? no, non sono mai stato in Svezia sono stato in oltre 40 paesi al mondo ma in Svezia mai vediamo un po' che dice suggerimenti, stai tenendo visualizzazioni più velocemente del 99% dei presentatori con follower simili è la terza sera di fila che mi scrive questo messaggio I miss you, COCONAN ma strano sì, vabbè, ma per dire che comunque posso avere lo stesso successo nel senso, anche se non ho bonjour de la france, do you speak french? armaldo, you travel? I travel, please, drink with cards Godrakes oh, vabbè, non intende questo lui però wow 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 Grazie. 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 Hi bro, do you know Indonesia? Many people from Indonesia are writing me. I know Indonesia, I love Indonesia, I love Indonesian food. I thank you for reminding me that Indonesia exists. Guatemala, wow. Jordan. Perseguitor su... Suyo, suyo. Grazie. Ucraina, pray for Ucraina. Play song with your hands. Thank you for your... Come si dice? Per la tua opera. Vedisco più, ok. Valeria Hutt. Giordani Mendoza, thank you. Ho iniziato a vedere Birdman l'altra sera, sì. Non è su Netflix, è sull'altra piattaforma che non stiamo a dire perché... qui sembra che sono tutti in guerra per l'attenzione, non diciamo altro. Però sì, è molto bello e riguarda la psicologia del personaggio, la forza del personaggio nel dialogo teatrale, nel presentare qualcosa di... e quindi c'è tutta la storia dietro che ora, vabbè, lo dovrò vedere perché... chiaramente... ... 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 You are cute, whatever you say to the others, the first thing is inside you. First thing is... What? Best of the best, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you! I don't know what is going on here with my live streams, only my followers are... You are folding the flower from empty bag, you are folding the flower from empty bag, did you ever get to me the real? Magic, hello, hello Arnaldo, Messi, hi Messi, hola, update the app, no, 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 update the app, Martin Carters, I understand you, I know what you mean, I already do that, but now it's four days, it's going like this. Mago Mart, thank you Mago Mart, thank you. No, my, it's not in English, it's not in English. What's the time? Can you speak Dutch? Yeah, a little bit, why am I 6 years old, it's just so I can speak Dutch, but now it's over, you understand? Now, yes or no, no one of the two. I speak Dutch a little bit, you understand me? Hello from Kuwait, mama, I was working in Kuwait in a big, big center, commercial center in Kuwait, amazing, I enjoy it so much, really. And now, Netherlands or Belgium, what's better? I know there is a little bit, I was living in, what? Jij gewoond in Netherlands? Ja, in Netherlands. Ik heb vrienden daar, in Heerde. Ook in Appeldoorn ook, begreep je? Ciao, come staai, always, myself, ciao. Where is Teddy? This is Teddy. Teddy says, ha! Teddy says... Oops. Okay. It's nearly one hour. I'm not going to say again, but I don't know what is going on here with my live streams. And I think in the future, in the next days, I think something... ... ... ... ... ... ...